Io ho la tranquillità di una donna molto convinta, la mia candidatura non è solitaria, ci sono tante persone con me nel Partito Democratico Territoriale, elettori, e quindi sono molto tranquilla che questa esperienza che farò, questa candidatura che farò, è una cosa seria, vera, profonda, disponibile, come tutte le cose che fino adesso nel bene e nel male ho cercato di fare. Grazie.